ok ragazzi abbiamo montato la canna direi che ci siamo un po che combiniamo andiamo l'auto e proviamo con una finta non è che se sono buono o più vediamo ecco l'oclato ecco ce ne sono un paio decisamente grossi questi no, scetato dato ecco lì ancora proviamo con un'altra esca adesso vediamo che combiniamo vediamo se riusciamo a chiamare quelli lì voglio quelli lì sono tutti lì belli come il sole con la mia scuza e ci riusciva a prendere un black che è che difficoltà ecco 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 è un cavetano è un cavetano buona buona ma i cavetani li tieni? che ferro questo non vola in su questo è rimasto mare questo è un cavetano è un cavetano è un cavetano vediamo un po' se riusciamo anche a banarlo così eh questo è un bel pezzo eccolo è un cavetano è un cavetano è un cavetano è un cavetano ho proprio il pelo che pezzo moschina piccolina che l'ha fatto agitare guarda qua che pezzo bellissimo aspetta che lo apro bene guardate che bocca ciao cicci saluto al pubblico di full timer pesca ciao bello e via ciao